Un morto e tre feriti di cui due improniosi riservata. È pesante il bilancio dell'incidente stradale avvenuto venerdì sera intorno alle 21 sulla tangenziale di Sondrio, un tratto di statale 38 a scorrimento veloce non nuovo purtroppo a sinistri dalle gravi conseguenze. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri del capoluogo intervenuti sul posto per i rilievi insieme ai soccorritori del 118 e ai del fuoco per la rimozione dei veicoli e la pulitura della sede stradale, il conducente di una Dacia Duster, Lorenzo Ruttico, operaio 49enne di Albosaggia, avrebbe intrapreso un'imprudente manovra di sorpasso in un punto con striscia continua. Al sopraggiungere di un'auto dalla direzione opposta nel tentativo di rientrare nella propria corsia di marcia, l'uomo avrebbe stretto tamponando la BMW condotta da un 22enne residente a Sondrio, a bordo la madre di 57 anni. coinvolta anche una Fiat Punto alla guida un cittadino marocchino di 42 anni, anche egli residente in città, una carambola particolarmente violenta che ha provocato il ribaltamento dell'auto di Ruttico. Lo sventurato, peraltro noto alle forze dell'ordine per vari precedenti, è morto nel corso della notte per le gravi ferite riportate. Il giovane di 22 anni è ricoverato all'ospedale di Sondrio con varie fratture, la proniosi è di un mese, più serie le condizioni della madre, trasferita d'urgenza all'ospedale di Brescia con un volo notturno dell'elicottero del 118, intervenuto anche con tre ambulanze. Grave anche il cittadino marocchino ricoverato in proniosi riservata a Sondrio. Sul corpo della vittima, prima del decesso, è stato effettuato un prelievo ematico per accertare l'eventuale presenza di alcol nel sangue. L'autorità giudiziaria ha consentito la sepoltura della Salma.